Pino Marzella al termine della partita, vinta per 5-3 contro l'Hockey Cremona. Pino, come hai visto l'amatore Vercelli questa sera? Una partita combattuta. La squadra ha giocato male, anzi quasi malissimo. Non è stata la squadra che io mi aspetto, però c'è da dare atto a questi ragazzi che con una grande prova di carattere hanno portato i tre punti che erano fondamentali per arrivare ai secondi e poter pensare ancora da lontano al primo posto. Certo, dobbiamo fare un sacrificio in più per riuscire a mettere a posto la squadra, dobbiamo allenarci di più per essere più pronti alle battaglie che ci vedranno già da sabato a San Drico e prepararci bene per arrivare alla fine di Coppa Italia con tutte le chance per potercela giocare. Il pubblico di Vercelli ti è piaciuto questa sera? Sì, pubblico fantastico. Per essere una partita di A2 non sembrava, ma una partita di A1. Quindi ci è stato vicino, ci ha aiutato nei momenti di difficoltà. Direi che ha dato proprio la spinta ai ragazzi per poter portare a casa i tre punti. Ancora chi non è ritornato al palazzetto, ritorni che l'amatore ha bisogno dei vercellesi, di un grande pubblico per una bella stagione dopo anni di buio. Noi tutto questo lo facciamo per Vercelli, qualsiasi persona, qualsiasi tifoso, qualsiasi sportivo ha un senso di appartenenza a questa squadra, dovrebbe sentirsi davvero obbligato a venire perché i ragazzi stanno dando tutto e cercheremo di portare in alto la bandiera di Vercelli. Grazie.